Per la sezione recuperi elettronici oggi andremo a vedere cosa è possibile recuperare da una macchinetta del caffè, macchinetta quella con le cialde. Quindi adesso come al solito procederò nello smontaggio dell'elettrodomestico e pian piano vi farò vedere poi le parti più salienti e alla fine discuteremo su quello che abbiamo trovato. Smontare questa macchinetta è più complicato del solito, di fatti questo tipo di elettrodomestici segue una sequenza di smontaggio e solo chi la sa riesce ad aprirli correttamente. Quindi niente, sto sudando più del solito ma già si intravedono le parti che possiamo recuperare. Ho finito di smontare la macchinetta ed ecco cosa abbiamo raccolto. Abbiamo una presa di tipo sciuco, una scheda elettronica con due condensatori elettrolitici da 400V, qualche induttore, qualche condensatore anche di tipo MPK, altri dispositivi ma di poco conto. Una pompa ad alta pressione, queste qui, queste pompette hanno una portata di 100ml al minuto ma in uscita hanno una pressione che può arrivare fino a 20 bar. Quindi per applicazioni ad alta pressione queste sono l'ideale. Inoltre costano pure parecchio, se le provate a cercare su internet questo modello qui è abbastanza costoso, circa 15 euro. Poi ci sta, vabbè, la camera di surriscaldamento dell'acqua con la resistenza ma qui si può prendere ben poco. E poi ho recuperato qualche altro oggettino che mi può servire per qualche mio progetto. Questa è una maniglia in acciaio, questa è un materiale metallico, una grata di metallo, insieme anche a questi due pannelli di metallo che appena li ho visti ho pensato subito a un bel dissipatore. E poi questo è un contenitore di plastica e anche questo, questo mi sa tanto di portapenne, quindi lo riuserò qui nel laboratorio perché mi piace questo qui. Bene, quindi il recupero è a livello economico abbastanza elevato. Poi ovviamente dipende da cosa gli serve effettivamente a chi lo va a smontare. Molto bene, per questo video è tutto. Alla prossima!